Salve buonasera a tutti seduta interlocutore per le principali piazze finanziarie europee che riescono a recuperare in chiusura i DAX chiude a meno 0,17% un IBEX a meno 0,02% un CAC a più 0,28% un FUZI Londra a più 0,13% e un FUZI Vib che chiude a più 0,09% per quanto riguarda le news che sono state rilasciate oggi calo mensile più accentuato del previsto per le vendite al dettaglio britanniche a marzo segnano un decremento dell'1,2% rispetto allo 0,5% delle stime del consensus su base anno il progresso si è ridotto all'1,1% rispetto all'1,5% precedente mentre invece il IBEX calo a marzo per l'indice di fiducia dei consumatori rilevato da JFK nei 28 stati dell'Unione Europea l'indice si è attestato ad 20,6 punti e si mostra sostanzialmente stabile stabile nei primi mesi dell'anno in Italia diminuiscono ancora le aspettative economiche mentre migliorano quelle relative al reddito per il 2018 JFK prevede un aumento della spesa delle famiglie europee compreso tra 1,5% e 2 punti percentuali in termini reali nel primo trimestre del 2018 i consumatori europei si sono dimostrati molto meno ottimisti rispetto alla fine dello scorso anno tutti i paesi che avevano visto un forte incremento dell'indice di fiducia nel corso del 2017 hanno registrato una flessione dei primi mesi dell'anno ad aprile l'indicatore che misura l'andamento del manufatturiero dell'area di Filadefi invece è passato da 22,3 a 23,2 punti gli analisti avevano stimato un calo a 20,1 punti bene adesso invece andiamo a vedere domani che cosa succede dal punto di vista per quanto riguarda le news in programma domani l'ultima seduta della settimana abbiamo alle ore 8 l'indice dei prezzi alla produzione della Germania alle 14,30 l'indice dei prezzi al consumo del mese di marzo e alle 14,30 sempre dal Canada le vendite al dettaglio benissimo andiamo a vedere oggi cosa ci offre il mercato oggi praticamente è stato una giornata un po' interrogutore anche per quanto riguarda sia per le borse e anche per quanto riguarda la situazione sui principali cross per quanto riguarda l'euro dollaro finalmente abbiamo avuto una mossa una movimentazione ribassista vedete è dovuta principalmente è dovuta a un deciso cambio di tendenza stamattina ci siamo lasciati durante la sessione la sessione mattutina e quella pomeridiana con un future dollar index senza una direzione precisa mentre invece adesso vedete c'è stata una buona spinta rialzista con un breakout al momento con un close che al momento si trova sopra il massimo della candela precedente ciò dal punto di vista tecnografico vedete ha dato il là per poter spingere al di sotto uno di 3456 a questo punto praticamente questa situazione questa black swan il pattern armonico in ottica settimanale potrebbe essere preso in considerazione vedete abbiamo una pin settimanale quindi nella prossima settimana già dalla giornata di domani potremmo entrare a mercato in vendita mentre invece per quanto riguarda invece la situazione legata al dollaro yen al momento l'operazione buy stop non è stata quello che ho inserito stamattina non è stata triggerata abbiamo sempre questa bullish total è ancora valida in ottica giornaliera ed al momento vedete abbiamo una classica barra pin vedete che si sta portando i prezzi sotto 107.314 quindi molto probabilmente domani potremmo assistere a una movimentazione ribassista per quanto riguarda invece le altre operazioni New Zealand dollaro eccola qua siamo quasi bellissime operazioni su New Zealand dollaro finalmente diciamo che questa movimentazione la debolezza del dollaro della Nuova Zelanda si fa sentire e quindi sta andando l'operazione quindi sta andando molto bene per quanto riguarda New Zealand dollaro stiamo a pochi punti dal target mentre invece per quanto riguarda per quanto riguarda le altre situazioni abbiamo anche Audien che sta andando sta andando molto bene Audien per un sell eccolo qua vedete l'operazione che stamattina sono entrato oggi con due operazioni per un sell ed in pratica abbiamo anche una operazione che in questo momento Aud New Zealand anche sta si sta movimentando bene una bellissima situazione un sell adesso è entrato un altro sell a mercato in pratica molto molto tecnica questa ingresso al mercato vedete praticamente se restringo il grafico abbiamo una situazione diciamo che una trend line tecnica con una bullish shark che è proprio qua sotto che praticamente ha testato per ben due volte fino ad arrivare sia con il lato X che il lato D il 1066 e 76 bene questa è la situazione per quanto riguarda Aud New Zealand EuroCAD pardon EuroCAD un'altra operazione che pure tra un po' sta per partire vedete c'è questo rimbalzo ed potrebbe partire un buy stop perché praticamente qua il prezzo si è fermato proprio a 156012 bene per stasera è tutto io vi ringrazio per l'attenzione e ci aggiorniamo quindi domani mattina con la prima diretta live delle ore 8.30 grazie mille e buonasera a tutti